Oggi è il venturo 22 luglio, non mi ricordo, comunque è una domenica Sto a un incendio vicino a Ternica ma costretta deviare strada Ed ora guardate cosa ho scoperto in questo paesino nella vallnerina Guardate, 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 guardate una focaccia enorme che adesso mi mangio tutta quanta Guardate che roba, guardate che roba, è una roba enorme, buonissima, meravigliosa, calda, fumante Con il pizzettino di rosmarino, una roba finta Ecco, lo metto dentro E ma la maglia stava facendo Esattamente E... che bello, non vedo l'ora Scusa, sarà questa roba? Ok